E' bello a tutti ragazzi, qui è il vostro Mickey Osho, e oggi ritorniamo su... Undertake Battle for Bosses! Quello che è? Ok, play! Ok, la scorsa volta abbiamo battuto Toriel in Easy. So, voglio battere il Matt Dummy, che sarebbe un fantasma bucazzo. Che è un po' più forte di Toriel, ecco, ci sono due teschi. In Easy. Ok, sta raga... sta battaglia dura un botto. Faccio vedere che anche se lo colpo non gli fa niente. Ecco, visto? E invece come dovremmo colpire? Adesso lo faccio vedere. Ecco. Così, raga, dobbiamo colpire così, praticamente. Dobbiamo colpirli con gli attacchi dei suoi battagli. Però la battaglia dura un botto. Un botto che non c'è. Allora ragazzi, il video si spegnerà automaticamente, vuol dire che è durato un botto. Questo, non so se ci sarà una seconda parte, però è molto probabile. Aiaaaa! Ci muore, c'è anche un po' tesi. Sì! 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 Però la canzone è bellissima, raga. Questa canzone mi piace un botto. Eh, 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 ecco, adesso arriva la parte difficile. Sì! 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 Cerchiamo anche di non perdere tanto! Se la hai persciutato? ragazza scendere un botto ok questi caduti stivati vai però questa è la parte che mi fa sempre più incavolare perché schiva tutti aia ma dai e raga visto rischio a tutti questa parte senta volare muorici o alleluia eh vabbè eh vabbè eh vabbè eh vabbè sono già tre minuti non siamo ancora la metà qua qua qui siete bravi qua su madonna bravissima raga la parte dei razzi però c'è alcuna parte dei razzi ho fatto scendere un botto in quattro minuti erano praticamente impossibile eh vabbè la canzone non lo vedo più belle però la battaglia fa schifo ma anche la battaglia è bella però è troppo difficile eh ma dai mi prendo a casa mentre vorrei buttare un spararazzo peccato che non posso eh ok qua ci ci può che spanno se vanno e vengono vengono più peggiori ovvero i razzi raga i razzi sono veramente una roba infernale è stato l'interfocola praticamente è stato l'interfocola praticamente ecco ecco è anche molto difficile anche io non c'è più difficile questo è più difficile questo è più difficile eh no eh no ok non so come ho fatto a colpirlo piirlo na 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 no Morite! Morici! Aiuto! Che l'acqua infernale! 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 L'acqua infernale! raga un altro colpo e moro, è crepato un altro colpo, faccio un altro colpo è crepato Isì è crepato Isì crepa crepa cazzo Ci prego nooo quanti colpi vuoi per crepare È crepato, è crepato, è crepato icy E crepato! E crepato! E crepato! E crepato! Non si viene! Non si viene! Non si viene! Cotto codo! Quanto godo, quanto godo, quanto godo, tu non sai. Ando un'ora, un'ora. Ciao, ciao.